Bella ragazzi e bentornati qui in questo mio nuovo video, come sentite dalla voce non ce l'ho Mi sto ammalando, sto soffrendo di tutte le pene del mondo Infatti questo video è uscito tipo alle otte e mezza penso, alle nove Io nel video vi ho chiesto 50.000 like, se ci arriviamo veramente mi spoglio nodo e mi butto nel naviglio Lo scopo di questo video era quello di calciare 5 punizioni a testa, chi segnava poi vinceva Dato che siamo scarsi e delle pipa astronomiche Ma vedetelo tutto fino alla fine per vedere com'è andato a finire Marmello di frana? Sto tirando il forno Ah puoi fare come i video che fai così e ci stai tutti gli addominali scolpiti Bella ragazzi e bentornati qui in questo nuovo incredibile e fantastico video di calcio Principalmente oggi siamo tornati qui con una nuova challenge nel senso per far vedere un po' le nostre skill calcistiche Oggi signori allargatevi c'è Ron ma dietro Ron c'è una barriera a forma di porta e dietro c'è una porta Pensa un po' a forma di barriera Oggi signori siamo qui Mettete like e iscrivetevi al canale di Mollua Mastino lavico per noi Ah ok Ma che bella Oh c'è A dopo Capito ragazzi? Cioè non è la crossbar Vabbè uno non lo fa ma non va lì Ragazzi sono un uomo tatuato Mi impincio Il corpo nazionale dei vici viva il fuoco Grazie mamma Mi sa che questa mi va a disegnare Non sarò il primo dell'altro Ma sei preso la prima? Non ho capito io Ok I don't want away Non ho provato Sembrava col Vabbè faremo l'unasciotto Vabbè Bello se vuoi non sei obbligato a farmi Se non te va Ma se ti tiro la Gabo di Square Certo Gabo di Square Incrocio dai buoni Ma questo valeva Autogol di Sergio Ramos in barriera Ragazzi dato che tanto si butterà dietro la barriera Quando tirano sul palo del portiere Un po' troppo sul palo del portiere Ragazzi voglio provare a fare una cosa che non può fare Non ha girato Vabbè ma non ha girato Ragazzi era difficile Però una strana provatela È perfido Come la rapona fake di Blue Eh non mi esce Non ce l'ho Mi voglio impinciare Mi voglio impinciare T'ho fatto anche l'edit con la fine Ma chi è che tocca? Tu c'eri tu dopo tra la donna Sei pronto? Benissimo Però sfatto Oh Era bello Madonna Vedi a mettere in mezzo il cazzo di Peter Si stava a mettere da su Ragazzi io c'è Gioca pallone adesso Due volte ogni sei anni Ehi L'uomo sembrava dentro Cazzo che figata Ma mi sembra esagerato Ragazzi De'Lu vuol far fenomeno Siamo al centrocampo ragazzi De'Lu Fatti in culore Dizza questo è per te Ma cosa stanno bisticciando ragazzi Ma dai Ragione Ma passiamo il portiere raga Sono entrate due in porta Mamma mia Editalo e togli lui Non lo so Guarda che se entrava qui è stata ammazzata Do it Johnny Crick Poi a me Johnny Crick Orzoni Ok mollura fuori Ok De'Lu fuori dal cazzo Questo è il gol della vittoria Gr Signori C'è un pareggio Quindi tre rigori a testa De'Luca in porta Chi ne fa di più vinci Fuori Provaci almeno Uno Uno Giastron Si appresta a calciare Il suo secondo calcio di rigore Il portiere non si butta Iguale a quello di De Rossi Il risultato è 2 a 2 Per il momento Se sbaglio faccio la fine di Dybala contro la Lazio C'è Uh l'aveva presa Ti vado al transa Chi sbaglia perde E' Luca Non vuole arrivare io ragazzi Ma sei tappato per far vincere Dread Comunque perché esco il video e il suo canale Bravo Si fa sfumare Maggia Si fa sfumare Maggia Bravo Finalmente è arrivato La sigaretta time Per Marz e Mollu Spero che il video vi sia piaciuto Comunque prego Comunque la promissione mia è la più bella Hai perso? Ho perso Noi sentiamo un prossimo video Che non sarà mai di calcetto Provevo mai Non lo rifaremo mai più Non è vero Lo rifaremo Arriviamo a 50.000 like Lasciate un commento Scrivendo quello che vi pare E passate al canale degli altri Che hanno fatto tutti un video di calcetto Tranne Gabbo E Mollu Ciao 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 Ciao